E' in momenti come questo, quando il sogno va a dormire e rimango silenzioso ad ascoltare che vorrei alzarmi in volo per strappare all'illusione quel sussurro di preghiere appeso al cielo che nasce da noi quel desiderio inconscio che è chiuso dentro di noi e il senso cui non rinuncerà nessuno di noi perché sono sicuro che in fondo ognuno di noi sia un angolo di cielo di questo immenso aggrovigliarsi di umanità di questo c'è una di gente abbandonata al mondo e anch'io che adesso mi trovo qua come un pesce mi lascio trasportare Grazie a tutti Vorrei creder che nessuno al mondo sia vissuto in vano e che il pianto che si sente non sia quello di un bambino ma rimango sopraffatto dall'uno strappo alla coscienza perché so che ciò che uccide è la nostra indifferenza che dentro di noi nell'atto di rinuncia che compie ognuno di noi nel rivolgere lo sguardo da chi è diverso da noi mettendo sottovoce che ormai nessuno di noi può fare qualche cosa per chi non ha più e in momenti come questo quando il sogno va a dormire che vorrei parlare ai cuori per spiegare che parte di noi per quanto sia lontano chi soffre qui accanto a noi ha un sogno nella mano e coinvolge ognuno di noi perché sono sicuro che in fondo ognuno di noi sia un angolo di cielo di questo innesso mondo grazie a tutti grazie a tutti